. . . Asciugatura a lama d'aria . Air难 . Rende obsoleto qualsiasi soffiatore a due motori . Air难 . Non sfrutta solo la lama d'aria . Ma. Anche il principio aerodinamico . . Qanda- Air难. Ha un doppio effetto . Oltre che spingerere via l'acqua . Riesce anche ad aspirarla dal manto . Sicuramente qualche maestro di toelettatura sarà pronto a dire che la lama diretta sul cane non va bene. Questo solo perché escluso e non interpellato. Il solito effetto invidia del vecchio escluso. Ma. L'aria non va verso il cane. È tangente. Velocizzando l'asciugatura. L'acqua viene aspirata dal pello. Grazie ad una depressione. E poi soffiata via. AirBled Run. Attenzione. Attenzione. AirBled Run. AirBled Run. Può essere utilizzato solo con il soffiatore. Della DogsKets.com. Modello Speedy Dog. Perché monta un motore di nuova generazione ad alta qualità e ad alto rendimento. Capace di pressioni d'aria superiori alla concorrenza. Attenzione. L'uso con soffiatori classici. Può essere pericoloso e generare pericolo sia elettrico che fisico. Si precisa che anche con soffiatori a due motori è pericoloso. Perché. I due motori non aumentano la pressione ma solo la quantità d'aria. Risparmi a tempo. Fai meno fatica. Utilizza. AirBled Run. Attenzione. Ricorda che in Italia non c'è regolamentazione del settore della toilettatura. Diffida. Da chi ti urla. Io sono un maestro di toilettatura. Tu un semplice tosa cani. Ascolta. Il tuo amore per gli animali e rispettali. E lasciati guidare dal tuo buonsenso. E ricorda che chi fa il lavoro che ama non lavora mai un giorno nella sua vita.